Il procuratore generale facente funzioni, dottor Antonino Patti, riconoscendo il loro impegno lo scorso 28 gennaio nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2023, ha ringraziato i ragazzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza che con professionalità, dedizione e a volte anche pazienza si dedicano all'attività di tutela dei magistrati sottoposti a misure di protezione. Questo quanto viene precisato nel post della questura nissena, che attraverso i social parla del corso frequentato dagli agenti di polizia di Stato impegnati nei servizi di scorta. Gli stessi infatti, oltre alla preparazione tecnica di base, effettuano, dopo aver superato dei test psicoattitudinali, un addestramento supplementare, specifico e selettivo, che comincia con il corso di prima formazione di cinque settimane, si legge ancora, svolto al centro di addestramento e istruzione della Polizia di Stato di Abbasanta, in Sardegna, CAIP. Gli agenti infatti vengono chiamati a frequentare dei periodi di aggiornamento presso il centro, dopo aver iniziato a svolgere l'attività operativa presso gli uffici per la sicurezza personale, istituiti in seno alle questure. L'agente di scorta, oltre alle normali attitudini, deve possedere equilibrio e capacità di gestione dello stress, si precisa ancora nel post. Dal punto di vista tecnico ha bisogno di intuito, capacità di osservazione degli scenari e capacità reattiva e di previsione. Nei servizi di tutela non esiste un momento di stand-by, anche quando la persona protetta si trova in un luogo sicuro. Un altro elemento decisivo per la buona riuscita del servizio di protezione è la collaborazione attiva dell'agente di scorta con la persona protetta.